Scusate signore, signore, sono qua nella carrozza, dico a voi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Carino il vostro cappello. Me l'ha regalato un contadino. Beh, con un sole così ne serve proprio uno come quello. La bottega è più fresca, perché non è entrata? No, mio padre non si tratterrà a lungo. Tu, al barone non piace che la gente di strada parli con sua figlia. E tu torna nel tuo nido se non vuoi che ti spezzi le armi. Povero Pietro, è un buon uomo. Siete del nord, vero? Sì, di un paese vicino a Milano. Quale? Caravaggio. Dove abita la Marchesa Sforza? Sì, la conoscete? No, però dicono che sia bellissima. È così, è bellissima. Siete un vero pasticcione, sapete? Dipingo, sono un artista. Perché non scendete? Oggi è una bellissima giornata. Forza. Questa cos'è? Niente. Mi portereste un po' d'acqua, per favore? Certo. Ma perché siete legata? Vi prego, non fate domande. Venite, guardate, venite. 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 Ho ottenuto il pezzo forte per ultimo. Sono certo che lo troverete di vostro gradimento. Cerbiatto giovani. Così come Dio li ha fatte. Pure candide come la neve. E' uno dei miei lavori. Ma è meraviglioso. queste gocce d'acqua sono così perfette che sembra che mi bagnino le dita. Prendetelo. È per voi. Non posso. È un vostro lavoro. le farò un'altro. E poi se a voi fa piacere, anche a me fa piacere. Grazie. Sì, ma io non posso vedere una ragazza in catene. Michele! Stanno tornando. Vieni via di là! Io non so nemmeno il vostro nome. Michele. Michelangelo Varesi. Beatrice Cenci. Adesso scappate. Adesso, forza. Le vostre accuse non sono vere. Voi non sapete cosa mi faceva. Mio padre mi legava. Mio padre mi negava il cibo. Mio padre mi torturava. Mio padre ha cercato più volte di stuprarmi. Ma io ho resistito perché Dio era con me. Anche se è l'uomo che lo rappresenta, rifiuta di ascoltarmi. Silenzio. Silenzio. Ma come vi permettete di insolentire sua santità? È blasfemo ciò che dite. E concupire le ricchezze della mia famiglia. Questo non è blasfemo. Ha ragione. Ho visto io per la mangiulla in catene. Posso testemogliare? Silenzio. Silenzio. In nome di sua santità Clemente VIII, questa corte stabilisce che gli accusati restino rinchiusi fino alla fine del processo. Portateli via. Posso testemogliare?